avrebbe portato alla vittoria o meno. Il concorrente sembra non portare rancore ma quando Bonolis si alza per salutarlo e invitarlo a lasciare lo studio, lui lo colpisce. L'uomo afferra la mano di Paolo Bonolis che gli stava porgendo in segno di saluto. Quando con molta calma gli sferra una ginocchiata alle parti basse, Paolo cade a terra e chiede al concorrente il perché lo avesse fatto. Mentre il pubblico commenta, chiedendosi se i due stessero scherzando o meno, il concorrente dice a Paolo di non averlo fatto apposta e si china per aiutarlo a rialzarsi. Paolo si rimette in piedi e mentre il concorrente si avvia verso l'uscita dello studio, inizia a lanciargli pezzi di cartoncino addosso. Il pubblico esulta e scherza in coro Paolo. Paolo, Paolo, è molto probabile che i due stessero scherzando, ma chissà se Bonoli si aspettava di ricevere quel colpo basso che lo ha steso immediatamente. Paolo. 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 Paolo.